Seppia alla piastra, buongiorno. Questa è la seppia, prendere la seppia, metterla sulla piastra, tenerla 10 minuti da una parte e 10 dall'altra, poi prendere aglio, prezzemolo, olio e peperoncino, fanno frullare un pizzico di limone e poi condirlo come fosse preparato la seppia da poco a poco. Allora, questo...